Quest'anno, come d'abitudine, presentiamo uno stand completamente ricco di novità. Soltanto il divano Plum, che è un prodotto che abbiamo presentato l'anno scorso, dei fratelli Borolec, è ancora presente perché ha avuto un successo sia commerciale che d'immagine importante. Per il resto abbiamo tutti i prodotti nuovi, abbiamo puntato su prodotti che potessero abbinare la nostra originalità, avere prodotti sempre di design che siano funzionali, ma anche novità dal punto di vista dell'immagine, ma cercando di stare attenti un po' a ciò che è il momento. Il momento è difficile, la crisi la sentiamo un po' in tutto il mondo, di conseguenza l'attenzione anche al rapporto qualità-prezzo è diventato fondamentale ancora più di prima. Però senza dimenticare il nostro DNA, che è quello di presentare articoli che abbiano una specificità molto diversa e sempre legati a grandi design. Tra questi, quest'anno abbiamo una riedizione di un prodotto disegnato da Pierre Polen per la stanza del fumo di Georges Pompidou negli anni 70, che fu realizzato esclusivamente per l'Eliseo e che noi quest'anno mettiamo per la prima volta in produzione e che è proprio un prodotto che abbina queste caratteristiche, quindi design innovativo pur essendo degli anni 70, ma con il comfort degli anni 2000 e con un prezzo interessante, quindi con una possibilità di accesso anche ad un pubblico più giovane. Noi attingiamo a designer esterni di tutte le nazionalità, soprattutto giovani, abbiamo dei concorsi, soprattutto in Francia, all'Accademia delle Belle Arti, dove mettiamo in produzione il prodotto che vince e quindi cerchiamo di lavorare molto con designer emergenti e anche con designer di punta come i fratelli Burolecche che ormai sono delle star. La nostra è un'azienda che spazia dall'oggetto al complemento, al mobile, all'imbottito e che quindi è molto completa a livello di presentazione e di proposta a 360 gradi.